Sì, 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 c'è, c'è. Doppio. Doppio, doppio. Ah, figli di puttana. Aspetta, fermo, no, no, no. Come è che si chiamava la tua... Annulla, duo versus squad, se sei uomo. Come duo versus squad? Io e te contro le squadre, da quattro. Ti può? Sì. Famolo, famolo. Dove cazzo andiamo adesso? Stazione degli autobus. Io seguo te, fai tu quello che cazzo vuoi. Dove è la stazione degli autobus? Allora, ok, la vedi? Quella lì sotto dove c'è il bianco, dove inizia il bianco. Oh, fai tu, io ti seguo. Ah, è vero che tanto mi devo buttare i... Esatto, aspetta. Ma no, signor De Luca. Signor De Luca! Oti a casa la Pagnotti. No, vengo proprio, ma sei te questo? Stavo già coltellando. No, sembra esagerato. No, mi serve un'arma. Non me ne lasci una? No. Merda. Oh, qui davanti. Oh, cazzo, cosa mi ha sparato addosso, scusami. Salve, ha bisogno di... Adesso l'ha confermato, lei. Ma qua c'è una roba. Ma posso andare sopra così? A vedere. Ma... Contro la gravità! Occhio! Ma, scusami, se premi mentre sei in volo... No, muori! Dici? A vedere. Ma... Diventi uno scogliattolo volante! Oh, però puoi salire sopra i tetti. Ma che cos'è questa roba? Incredibile! Devastante. Sento passi, vecchio. Sono io! No, 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 non sei tu! Ma devi vederlo sulle... Eccolo! Coglione da dietro! Il volo di rianimazione è decollato. Come faccio a salire, scusa? Vabbè. Ma non posso salire! No, sali! E come si sale? E quando ti si avvicina ti dirà come cazzo si sale. Ah, ok, vai, vai, ci sono. Certo? Qualcuno qui, eh? Sono io, sono io. No, no, ne sono due. Oh, cazzo, ho sgravato con la sensibilità. Dove sono? Lo vedo là! Non ho a fianco. Uno dentro casa, qua, eh. Ho inciso uno. Ho inciso. Dove sono otto anni, però. Entro qua dentro, dentro, dentro. Aspetta che giuccio. Pidocoglione, pidocchio. Giuccio, arrivo. Giuccio tutto. E qua è luttato. Salve. Oh, guarda chi c'è qua davanti. Sì, chi? C'è qua davanti, va bene? Lì è di merda. Porco bastardo. Ok. Non credo fosse da solo, o sì? No, sei rimasto su. No. Mi cula tutto. Quale cazzo hai fatto a salire dalla quella di... Eh, guarda quanto ciuccio. Ciuccio, ciuccio. Mi devo mettere? Mi devo mettere le robe? O no? Ehi, scissi dal tabbo! Qui, qui di fronte. Merdina! Ma questo veramente voleva venirci contro, sto coglione. Nonsense si chiamava il tipo. Non senso. Sì, sì, vaffanculo, nonsense. Stupido coglione. Aspetta che mi... Lo zaino è pieno. Ma qui cos'è che devo fare con lo zaino io? Automaticamente. Allora, la K117 senza dubbio lo riprendiamo. Hai un cecchino te? Figlio di puttana. Figlio di troia! Mi sono caccato addosso. Sentivo dei passi. Poi tu... Dov'eri tu? E' lì qua a destra. Ero là, ero sopra. Ah, ecco perché... Ma che arma è? Ma dammi il cecchino. Ma cosa spare? Le siringhe. No, quello chi è? No? Sentito passi qua sotto. Sentito passi? Eh, lo sento che io! Eccolo! Figlio di puttana. Vai a fare in culo! Ma guarda che sanno dove siamo. Ci sta sniperando, vecchio. Dici? Com'è sì? E non ce la fanno comunque, merde. Merdine! Vengono una alla volta. Tanto meglio. Bastardi! Metto altri passi! Come fa sapere che siamo qua sopra? C'è nel senso, dai! Andiamo in parte più alta. Oh cazzo, dobbiamo muoverci verso Circo. Oh no, Circo Massimo. No, i clown. Non vedo un cazzo. Arrivo, arrivo, arrivo. Segnalo lì dietro così vedo se nell'area c'è qualcuno. Non c'è un cazzo di nessuno. Di chi è questo? Di chi è questo? Io. Questo? Sì. Oh c'è la scala! Qui è la scala, magari possiamo salire Massè. Dove? Qui, qui, qui. Questo è Stonks, sfidati. Ma dove cazzo sei? C'è la scala, c'è la scala. Dentro al circo. Ma facciamo i... Che è l'elicottero? Che è l'elicottero? Chi è? Ah, airdrop, vecchio. Non ho cecchini. Oh no! Madonna, stavo cadendo giù. Guardali in fondo, Massè. Pinga! Ok. Ho preso? Figlio di Troia! Esci da lì. Dai che arriva la zona, coglione! C'è la zona, merda. Esci? Guarda la destra. Figlio di puttana. Guarda, guarda, guarda. Madonna, che bella mira che c'ho. Guarda come corre! Guarda che qua sotto ce n'è uno! Guarda come corre che scivola! Ha ucciso, merdina! Poi drogati. Dove? Non lo so se l'ha andato dentro l'insenatura, lì in mezzo. Vaffanculo, lì insieme a tutti gli giovani. Oh, eccolo lì, qua sotto, qua sotto. No, dove vado? Due. Due. Tre, tre, sono tre. Lancio il dardo. Lancio il dardo, guarda che lo segnalo. Stuk! Lancio una stordente. Come? Ma non è vero che sono tutti botte, ma non è vero. Lancio una stordente. È una fumogena. Ops. Andranno fuori da quella merda. Immagino di sì. La zona, la zona, ma sì! Ma questa è di vecchio qua. Ma io ho proprio la zona! Quello chi è? Ma stavi morendo? Sì. Lancio una fumogena. Eccolo qua! No! Ma come cazzo si muovono? Uno si sta avvicinando sotto. Dammi l'arma! Dammi l'arma! Stupido coglione! Figlio di puttana. Ui, ragazzi. Guardalo lì. Mi impegno, mi impegno. No, ce l'ha fatto per terra, vecchio. Chi ti ha fatto per terra? A sinistra, a sinistra, a sinistra, vengi! Dove? Lì! Ho visto? Stamrda, coglila! Questo, questo! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Oh! Oh, yes! Oh! HHS! Dio versus squadra! HHS! Easy! Easy! Figli di puttana!